Simone Feoli, mancano sei settimane alla partenza del campionato di Serie 2, come sta andando la preparazione di questa squadra dell'NSG? Va bene, i ragazzi stanno lavorando, per adesso molto molto bene, un buon gruppo, mi sembrano molto coesi. Per adesso va bene, è arrivato il nuovo straniero da una decina di giorni, l'altro argentino sta andando bene, Thomas, vediamo adesso la tempistica per i permessi, quale sia e quale sarà. Stiamo cercando un qualcosa sul settore difensivo, centro-vasca-difesa, perché il mister la ritiene un po' giovane dietro, abbiamo tre difensori, comunque tutti e tre molto giovani. Quindi ci sarà un acquisto, da qui a breve, quanto tempo dobbiamo aspettare? Io credo prima del campionato sicuramente, fino a venerdì 23-24 novembre possiamo tesserare, quindi no, io spero che entro fine ottobre il rossa sia definito. Avete già un nome che è più caldo oppure ancora state vagliando le situazioni? No, no, stiamo vagliando le situazioni, dei ragazzi, un ragazzo Ligure, un paio di ragazzi della zona di Roma, un ragazzo di Bari, stiamo vedendo quello che può far più comodo alle esigenze e alla tipologia di gioco che la squadra sta sviluppando in questo periodo.